Buonasera a tutti bentornati e benvenuti sul mio canale iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e lasciate un mi piace al video se sarà di vostro gradimento questa sera giochiamo un po con la fantasia e facciamo qualche qualche sogno in più del dovuto che credo sia bello sia lecito perché lo sport e la vita in generale è fatta anche di sogni di a volte anche di illusioni come avrete capito dal titolo e dall'immagine di copertina parliamo ancora del nostro Yannick ormai manca poco all'annuncio della sua presenza o meno alla Roland Garros io ieri mi sono sbilanciato ci ho messo la faccia lo ribadisco anche oggi tutte le notizie che sono arrivate sono positive vanno in quella direzione ovvero che Yannick Sinner parteciperà al Roland Garros è arrivato anche l'ok dei medici l'ultima risonanza escluso qualsiasi complicazioni quindi clinicamente gli anni che è guarito ed è integro quindi non vedo perché non debba scendere a questo punto in campo e una un suo forfè mi sorprenderebbe tantissimo ma in questo video non voglio parlare di questo perché come ho detto ieri ormai manca solo l'annuncio quindi non serve neanche più però chiedo anche a voi perché non sognare dal momento in cui ora diamo per scontato che Yannick parteciperà indipendentemente da quello che succederà da qui i prossimi giorni allo start del main draw del Roland Garros perché non sognare e non dire Yannick Sinner può fare una doppietta che avrebbe del clamoroso dello storico ovvero dopo la vittoria degli Australian Open vincere anche il Roland Garros alla fine se ci pensate quali altri tennisti possono insidiarlo ok abbiamo Novak Djokovic che ha fame di vittoria ora vedremo in quel di Ginevra ma di sicuro non è un 250 che si può paragonare a uno slam è un torneo come il Roland Garros abbiamo Alcaraz anche lui fisicamente ha delle grandi incognite poi comunque Sinner ha dimostrato di essere un avversario molto temibile e sulla terra rossa non dimentichiamo che in quel di Umago qualche anno fa Sinner l'ha già battuto Kasper Rudd, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Daniel Medvedev io credo che Sinner abbia tutte le carte in regola per fare un qualcosa che sarebbe incredibile perché già vincere lo slam in quel dell'Australian Open è stato un risultato pazzesco fare il bis e fare una splendida doppietta sarebbe un qualcosa di dolce proprio di impossibile però io vi dico la verità io dentro di me covo questa questa speranza che però non è la speranza del rookie che parte sfavorito e dici ma sì quante possibilità vuoi che ci siano per arrivare in fondo ci credo dentro di me magari lo dico ma vengo preso per matto io invece ci credo veramente sono sincero e più passano i giorni più si avvicina l'appuntamento in quel di Parigi più sale la mia speranza cresce si accresce la voglia di vederlo cresce la voglia di vederlo in campo e anche la sensazione che Yannick Sinner sia proprio quel tipo di persona di giocatore che può compiere qualsiasi tipo di impresa sportiva perché comunque è vero che era il numero 4 del ranking in Australia però non dimentichiamoci la finale e come ha vinto contro Daniel Medvedev dopo i primi due set io mi ricordo i commenti in generale era dato per spacciato era un sin era le corde era un pugile che ormai era un colpo dal capo eppure lui ha ritrovato se stesso nel momento più difficile in mezzo alla burrasca e un punto alla volta è andato a compiere un'impresa che solo i più grandi nella storia di questo sport e di questa disciplina sono stati in grado di compiere è andato a vincere il suo primo slam e sottolineo ha vinto il suo primo slam così ora non ho una memoria storica in questo momento sono anche parecchio stanco e non mi va neanche di andare a rimembrare nel passato chi ha compiuto un'impresa simile però vincere un primo slam così la prima finale di un certo calibro è un dato veramente tanto significativo ed è per questo che io sono veramente fiducioso oltre che di una sua partecipazione anche di una sua partecipazione dove Sinner può arrivare in fondo e fare una doppietta ora non è scontata sarebbe un'impresa sportiva credo mai avvenuta nello sport italiano una doppietta così non tanto nel tennis ma in generale perché io non ho la vittoria dei 100 metri per capirci di Marcel Jacobs come la più grande impresa sportiva di un atleta italiano perché comunque era un qualcosa che non era mai accaduto però credo che se Yannick Sinner dovesse vincere a Parigi consecutivamente alla vittoria dell'Australian Open sarebbe un'impresa sportiva paragonabile a quella di Marcel Jacobs per come la vedo io poi posso essere smentito prendetemi per pazzo, per esagerato il bello dello sport e comunque dei commenti anche che è opinabile insomma ognuno ha la sua però io la vedo così chiaro non è dovuta a una vittoria sicuramente non è il favorito assoluto però io credo e vedo in Yannick Sinner proprio le stigmate del campione vedo in lui segni di un tennista, di un giocatore che può compiere un'impresa del genere ora mi spingo oltre qualcuno nei commenti anche l'ha detto che sogna per lui il grande slam ha una carriera davanti io sono convinto che se Yannick continuerà così vincerà tutti e quattro gli slam vincerli tutti e quattro nello stesso anno qualcosa che è riuscito solo forse uno o due tennisti in tutta la storia e di sicuro quest'anno non gli si chiede questo anche perché ci sono anche le olimpiadi insomma c'è molta carne al fuoco però concentriamoci sullo slam di Parigi io credo che ad oggi Yannick Sinner abbia tutte le carte in regola per arrivare in fondo e vincere lasciando stare l'infortunio lasciando stare tutto proprio a livello mio a livello di sensazione, di sogno per me ce la può fare ripeto, prendetemi per pazzo ma io ve lo dico se Sinner parteciperà cosa che ormai do quasi per scontata io partita dopo partita cercherò di spingerlo verso la vittoria se questo non accadrà di sicuro non lo criticherò non me la prenderò però io ve lo dico io voglio crederci perché mi piace sognare mi piace pensare in grande quindi forza Yannick manca poco io sono con te detto questo vediamo come si svolgono le qualificazioni in questi giorni gli italiani stanno avendo gli azzurri dei buoni risultati e penso che quando finiranno farò un video di riepilogo io vi auguro una buona serata fatemi sapere con un commento anche voi cosa ne pensate e ci vediamo in un prossimo video e ci vediamo in un prossimo video